dovresti lasciare il vizio quel punto tieni veramente a quello e te lo dico in prima persona perché se non avessi visto determinate cose avrei reagito in maniera diversa a determinate cose della vita quindi lì state nella tua coscienza e nella tua maturità di smettere una cosa per il bene di qualcun altro devi essere disposto a mettere il bene di una persona davanti al tuo e poi dovrebbe essere la base per fare un figlio ed ecco perché io i figli non li voglio sai come la pensi sui figli devi essere disposto a mettere qualcuno davanti a te stesso non è facile non tutti sono fatti per fare i genitori ma poi io col rapporto di merda che ho avuto con mia mamma mi metto a creare un altro trauma del genere un'altra persona ma col cazzo però non vuol dire sì vabbè sì però comunque in ogni caso non sarei in grado sì quello ok però il fatto che comunque hai avuto dei genitori particolari non vuol dire che poi tu riversi questo su tuo figlio secondo me non so cioè può essere punto punto primo può essere un motivo proprio per non farlo guarda me non ho un figlio però guarda i miei comportamenti guarda la persona che sono completamente distante completamente opposta dipende tu come poi incanali la cosa vero vero però boh ripeto per me è un passo troppo grande è un cambiamento anche fisico troppo importante anche a chi a livello di chimica del cervello io penso che non riuscirei mai a vivere una cosa del genere e poi a essere la persona che non lo so poi magari ci soffrirò la mia è una motivazione prettamente egoistica cioè? cioè io non sono non sono disposto al momento a dire faccio un figlio perché so che la mia vita di coppia cambierebbe drasticamente e al momento non sono disposto semplicemente quelli ma perché tu dici tu dici io ho trovato il mio equilibrio quindi sì esatto cioè io adesso non anche no perché vorrei viaggiare prima vorrei sistemare delle cose prima e quindi non è il momento per avere un figlio quindi il mio è solo un discorso egoistico sì poi sai cosa esatto poi sai cosa noi essendo persone magari cioè almeno io sono una un po' ambiziosa mi piace fare mi piace viaggiare è uguale mi scordati poi allora mi prenderò un sacco di insulti però cosa devi dire diccelo però se avete un figlio neonato non viaggiate perché non viaggiate raga perché di no punto primo altra cosa mia questa poi io ognuno la pensa come cazzo vuole punto primo per me non è salutare portare un neonato in giro per il mondo cioè per tirartelo dietro portarlo in giro a destra a destra manca punto secondo non ho pieni coglioni di andare in aereo e sentire i bambini che piangono esatto non ne posso più perché a me non me ne frega cazzo che tu hai fatto un figlio nel senso ok però che palle raga cioè e poi punto terzo comunque ti limita le possibilità che hai tu o meglio mi spiego cioè se io vado a farmi un giro a Parigi e voglio farmi otto ore di camminata a Parigi non posso portarmi il bimbo raga dietro e c'è chi lo fa raga non puoi non puoi portarti otto ore il figlio dietro e infatti tutte quelle coppie quali vedi in giro che litigano che si incazzano l'uno con l'altra perché sono stressati e nervosi cioè avere un bimbo comunque è una cosa che a prescindere ti limita e devi essere pronto a dire ok io faccio un figlio la mia vita ad oggi poi è dedicata a lui e poi io voglio stare con una persona che mi ama e non so se riuscirei che magari poi mi entrerebbe in testa un pensiero tossico che è che quella persona sta con me solo perché c'è un figlio che ci lega eh beh quella è una conseguenza che può uscire effettivamente e forse questo è il motivo per il quale io tipo ho sempre avuto casa mia per me puoi venire ci ho sempre detto amore vieni fai quello che vuoi non c'è problema accendi spegni le luci metti la tua roba nei cassetti fai quel cazzo che vuoi fai come se fosse casa tua però ricordati che è casa mia cioè ricordati che a una certa ora perché io sono così quindi io non sono adatta a una vita di famiglia capisci perché io ho proprio bisogno del mio tempo da sola allora poi magari questa cosa cambierà nel tempo non lo so possibile non credo tolto il fatto raga che per avere un figlio dovete avere i soldi cioè non si può pensare di fare un figlio e non avere e non avere le possibilità economiche di di portarlo avanti perché costa tantissimo raga quindi anche per questa motivazione io non me la sentirei prima di tutto perché non gli do la vita che ho avuto io per dire cioè non no e per questo che ti dico se tu hai avuto determinati problemi nella tua vita il fatto che tu abbia un figlio non vuol dire che tu poi dopo glieli riversi io ho proprio il timore che finirei per odiarlo non lo so io non lo so perché io dico così ma so che nel momento in cui ho un figlio diventa la mia vita lo so ma poi diventa la tua vita poi diventa la tua vita però comunque è una persona a se stante che ti può creare anche un sacco di dolore perché comunque come ti può ferire un figlio non lo può fare nessun altro vabbè devi essere anche psicologicamente pronto quello le botte che ti dà un figlio sono allucinanti sicuramente poi raga poi raga sempre se ti nasce sano perché parlando di botte c'è anche questa cosa che purtroppo a volte quando nascono anche con dei problemi di questo tipo a una certa età tipo è successo a una del mio quartiere che a una certa età l'ho dovuto mandare in una struttura perché era violento con la mamma quindi non poteva gestirlo lei il figlio sì lì ho anche al di fuori comunque di problemi cioè gli sono problemi psicologici se Chirox lei è diventata una guerriera sei lo grazie se Chirox devi anche sapere che poi tu lo puoi permettere a livello mentale tu di gestire situazioni così io non ce la farei io non ce la farei e non lo ritengo neanche opportuno nemmeno per chi poi c'è dopo di me cioè se io muoio lascio un debito a chi? metti che ho dei fratelli ai miei fratelli ai miei cugini ai miei zii e si devono occupare di mio figlio come una guerriera sei lo re se Chirox va così vabbè è anche un altro discorso cioè lo fai da solo dovete crepare in due vabbè a parte che si intende lasciarlo sì però ci sono un botto anche di mamme single sì sì quello forse sì però un altro discorso ancora sì se mi parli di morte c'è poco da fare e poi tante volte è meglio crescere con un genitore che con due sì però ho capito in certi in certi casi appunto soprattutto di gravi 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 di disabilità arriverai per forza al punto in cui tu non te ne puoi occupare cioè metti che è una persona non lo so non riesci neanche più ad alzarla cioè quando arrivo all'età di 80 anni come faccio ad aiutare il mio figlio che ne ha 20 e non posso capito magari non può neanche alzarsi per andare in bagno come posso io ma infatti quando tu sai prima che nasca che avrà determinati problemi deve avere due coglioni così per portare avanti la gravidanza sì e comunque molti dei problemi li scopri facendo la come cazzo si chiama l'amniocentesi che comunque è rischiosissima e causa un aborto mi sembra su 100 quindi in ogni caso comunque e può anche creare dei danni al feto esempio errore medico mia mamma che mi ha partorito a 40 anni molto vecchia brutta decisione da prendere perché ovviamente vuol dire che io mi dovrò occupare io sono convinta che lei infatti si è ha fatto una figlia così tardi perché così io mi occupavo di lei non perché voleva davvero una figlia e no vabbè sono on fire con mia mamma perché ultimamente sta toccando dei livelli di subumanità che che non è vabbè mi son persa cosa ti stavo dicendo è che di posizione forte a mia mamma le hanno fatto a mia mamma le hanno fatto l'amniocentesi l'hanno bucata con un ago sbeccato e continuava la bucata più di tre volte continuava a cercare di tirar su il liquido amniotico non riuscivano a una certa l'infermina guarda e fa ma c'era l'ago spezzato si mette a ridere come si mette a ridere? guarda non ho parole boh però per tornare al discorso di prima ti ripeto se scopri che ha problemi il cioè non lo so e lo so che è un discorso molto però raga ti parlo di me se io dovessi sapere che poi la decisione non è solo mia però ti parlo dal mio punto di vista che mio figlio avrà determinati problemi non porterei avanti la gravidanza non la porterei avanti perché perché no e poi che vita gli fai fare esatto esatto e so che tutti mi direbbero no ma meglio lasciarlo in vita perché ammazzi una persona così ma è un pensiero mio cioè se devo portare avanti la gravidanza e sapere che poi dopo lui ci avrà 40 anni in cui vivrà di merda cioè che avrà 40 anni veramente del cazzo perché comunque evita pensi che possa andare a fare se ha dei grossi problemi non la porterei avanti e poi ci sono anche dei casi in cui il figlio non ci arriva ai 40 anni perché ci sono delle malattie neurodegenerative in cui comunque se arriva ai 20 è già tanto appunto con 7 miliardi di operazioni cioè se tu sai che comunque avrai un bambino che avrà un'aspettativa di vita di 20 anni facciamo un esempio cioè io non ti io in cuor mio non posso dire ok portiamola avanti fino ai 20 anni no non ce la farei perché perché no raga perché cioè poi per me è un dolore per tutti inutile e lui si fa 20 anni di vita di merda per cosa esatto esatto e poi comunque è anche un gesto di egoismo è anche un gesto di egoismo poi decidere decidere di tenere il figlio con una determinata per me è anche egoismo però tu hai dei commenti perché se lo vuoi sì no ma niente di perché se lo vuoi talmente tanto se lo vuoi talmente tanto dice che lo tengo a prescindere vai vai tu rispondi ai tuoi che poi devo leggere anche i miei vado a farla pipì ti lascio ti lascio le redini sì vai tanto vai vai ma io se chiudo la live tra l'altro non c'è più la mia cam qua perché la sta prendendo da la sta prendendo da vabbè stavo leggendo la chat dell'Ale sì è il discorso che facevo io che facevo io e sono completamente d'accordo se nasce se nasce con problemi abortisci e finita lì ed è ed è ed è un discorso egoistico da un lato e dall'altro da decidere di tenere lo sa di problemi piuttosto che piuttosto che l'opposto che lo vuoi talmente tanto che gli fai fare una vita di merda perché tu vuoi un figlio secondo me non sta nel cielo né in terra raga non ho capito se mi fanno gli alert o no vabbè secondo me no io dovrei trovarmi in una situazione ma quasi sicuramente anch'io ma sì esattamente poi chiaro non è una decisione che prendi da solo quindi non è una cosa che puoi decidere tu da solo perché le cose si fanno in due anzi a parere di mia moglie in quel caso sarebbe anche più importante del mio e beh per forza perché comunque lo deve portare è lei che è lei raga è lei che porta avanti la gravidanza e tutto comunque andre anche tu se devi dire qualcosa dillo non ci sono cose giuste o sbagliate ma solo come ha scritto Sekiro adesso vi leggo anche a voi ragazzi aspettate un secondo sono solo punti di vista quindi andre anche tu puoi dire quello che vuoi non è che c'è una cosa giusta o sbagliata se vuoi intervenire guarda io ne ho parlato con con la psicologa perché è un discorso molto 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 sensibile per me questo se vuoi se non no 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 ci sono stati dei momenti dove ero veramente veramente sto cercando una parola per dire quello che voglio dire perché lo conosco in inglese dillo in inglese in down in periodi completamente a terra e no volevo evitare di dire la parola e dirla in maniera diversa ma proprio perché per questa cosa c'è stato un momento in cui dentro di me c'era proprio quella quella voglia di avere cioè concettualmente avere un bambino ma non per altro ma proprio per come dire dare questo cioè tutto l'amore che si può dare a un bambino cioè perché io perché io lo percepisco da te questa cosa cioè tu hai un sacco di amore da dare sì ed è la cosa che salta da fuori cioè io in quei momenti avevo proprio bisogno di dare tutto me stesso per qualcosa e quel qualcosa dentro di me era un tipo un bambino però poteva essere veramente qualunque cosa certo però ho capito che appunto non è lo so lo so non è neanche dire no ma va tranquillo non è neanche dire voglio il figlio con quella persona lì perché anche lì cioè non è non è proprio dire tipo ho trovato la donna della mia vita ci farei un figlio quella è una dichiarazione d'amore bellissima ma dire io farei un figlio perché ho tanto amore da dare e ne ho talmente tanto perché immagino che tu su questa cosa comunque ci soffri perché se mi dici ne ho parlato con la psicologa è quasi più una necessità tua di amore da dare cioè almeno a me sembra io sono dell'idea che se per dire io domani trovo la ragazza nella mia vita mi dice voglio un figlio va bene red flag però questo è proprio è un ok però boh Andre posso dirti una cosa senza che ti offendi vai 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 è un po' egoistico come ragionamento beh no beh sì no lo è in che senso ho capito il senso nel senso che cioè allora aspetta perché la devo mettere giù bene perché sennò sembra un insulto quando in realtà non lo è se tu mi stai dicendo che tu a un certo punto della vita vuoi fare un figlio perché hai bisogno di dare il tuo amore a qualcuno e quindi fai un figlio per quello secondo me è egoistico adesso vi leggo ragazzi datemi un secondo che qua stanno discutendo loro due ah ok basta 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 no ho già capito già capito cioè erano due discorsi separati ho capito che tu sei in una condizione mentale attuale che ti permette di dire ok ma sì poi ha 24 anni io non lo sono sono troppo egoista raga io anche oddio mi sono troppo egoista non ho io ho istinto ho istinto probabilmente ho istinto genitoriale ma sono al momento non sono non sono disposto a mettere davanti qualcuno che non sia mia moglie davanti a me e poi sai cosa Davide noi abbiamo anche un sacco di problemi mentali nostri slash tendenze depressive chiamiamole poi abbiamo anche passato abbiamo entrambi passato cose che ci vogliono anni a superare ragazzi cioè io cinque mesi fa sono morto sono clinicamente morto e è una roba che comunque per quanto io faccia il grosso tutto comunque è una cosa che ti segna quindi voglio dire prima vanno risolti tutti i traumi mentali poi forse puoi pensare di avere un figlio abbiamo 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 malcagato malissimo i messaggi della mia chat i miei infatti a me non mi caga nessuno poi non so da te se tu ne hai altri io li devo leggere io la cosa di cui mi pento di aver fatto nella mia vita è di aver detto a mia madre di ammaz se la mia operazione fosse andata male sarei rimasto paralizzato in quel momento non ho pensato alla paura e d'olore che ho procurato a mia madre in quel momento scusami ma è tua mamma invece che non pensa a te che dovevi andare sotto i ferri e al coraggio che hai avuto a lasciare a lei un testamento biologico complimenti per i genitori disfunzionali e per la normalizzazione pure di questo allora raga chi è che l'ha scritto red infatti mi stupisce che l'abbia scritto red red avrei detto la stessa cosa che hai detto tu se devo decidere di fare la vita di schumacher piuttosto non vivo ma poi sono cazzi ma comunque ma comunque saranno cazzi di red di decidere con la propria vita che cazzo vuole fare no allora io capisco quello che dice lui ma che poverina ci sta male ma raga noi dobbiamo essere vabbè sarà che noi siamo egocentrici davide quindi no aspetta però dipende anche dal rapporto che hai col genitore ma so di fatto che in italia non te lo permettono sì a parte a parte quello però è anche però comunque un discorso ideologico se tu avessi le possibilità di scegliere capisco che lui dice dare un dispiacere del genere a mia mamma ok però fidati che sono altri dispiaceri non decidere di smettere perché perché non vuoi fare lo schumacher ma poi comunque in ogni caso sarà red a decidere se vuole o meno fare lo schumacher non deve preoccuparsi già sono scelte difficili ma lì perché chi decide di non essere intubato chi termina ma lì comunque e scusami se ti ho parato sopra ma lì e se il genitore deve lasciarti prendere la tua decisione perché deve essere una decisione che prendi tu poi sarà difficile accettare tutto quello che vuoi però comunque la decisione è mia raga la vita è mia esatto sono io poi che devo vivere una vita del cazzo bravo come chi scopre di avere un tumore c'è chi decide di di evitare di curarsi perché preferisce vivere gli ultimi mesi andare alle seiscelle e spaccarsi e spaccarsi andare in giro a ciulare e c'è chi invece dice io no mi curo e le approvo fino all'ultimo momento mi faccio le cure sperimentali sarò del merda ma mi interessa io lotto dipende dalle persone cioè ognuno fa la scelta che vuole e gli altri devono solo accettarla perché si parla della propria vita quindi la penso come Sekiro che dice che dal suo punto di vista se fosse con dei problemi insomma abortirebbe io la penso come te però ripeto sono appunto punti di vista dovrete poi ci sono gli obiettori di coscienza che ti dicono sei matto stai togliendo la vita a una persona no allora allora sai cosa sai cosa qua si apre un altro dibattito che tipo l'avevo aperto con Davis abbiamo parlato per due ore quindi questo lo facciamo un'altra volta però ti apro la parentesi perché questa è bella vai il figlio in realtà geneticamente è metà DNA dell'uomo metà DNA della donna giusto ecco e qua nasce un dubbio etico che è vero che il corpo è della donna lo sappiamo tutti però la domanda è un'altra è etico che il padre non abbia facoltà decisionale per me sì perché è il mio corpo sì perché però comunque il fatto che l'uomo non abbia alcun tipo di voce in capitolo è comunque strano dovrebbe essere una decisione congiunta e basta ci sarebbe allora cioè ci sarebbe una possibilità però è difficile da sentire cioè che tu porti a termine la gravidanza e poi lasci il figlio a lui è mai proprio il punto di abortire perché non voglio portare la termine alla gravidanza sì e sono d'accordo che diciamo che la la decisione dovrebbe essere presa congiunta in caso non ci fosse accordo effettivamente raga la decisione finale aspetta la mamma è lei che porta avanti la gravidanza poi capisco il discorso del padre però è lei che la porta avanti se lei dice non la voglia portare avanti ha tutto il diritto se è anche una gravidanza a rischio io il padre il mio lavoro è finito nel momento in cui sono venuto tutto il resto lo fa la madre cioè più che altro la vita ce la mette lei metti caso che sta male metti caso che delle complicanze la salute è la sua ma poi le analisi del sangue cioè raga non è così le analisi del sangue le analisi perché ti fanno anche le analisi del diabete ormai quando sei incinto è tutto un bordello no ma lascia stare quello lascia stare proprio quello ci sono delle complicanze il bambino ti può creare la gravidanza ti può arrecare dei problemi io sto bene come sono stato il giorno prima e il giorno dopo vero tu stai male rischi la vita magari si pota raga quelle poi sono tutte casistiche che non possiamo analizzare una a una però succede sì sì succede certo allora sembra normale io dovrei trovarmi nella situazione ma quasi sicuramente anche io non porterei avanti la gravidanza mi sentirei male però c'è anche la parte della futura madre magari quello sarà l'unico bambino che potrai avere nella vita ragazzi li leggo veloci poi se vogliamo commentiamo lì ci ripensereste a quel bambino che non avete portato avanti esempio fishball ha iniziato dicendo no no io abortisco 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 perché un figlio di uno stupro non lo voglio poi era già al suo secondo o terzo aborto e quindi praticamente sarebbe stata sterile la vita cioè sarebbe stato impossibile a parte che comunque non so come ha fatto appunto dopo un aborto continuare a rimanere incinta vuol dire che questa ha delle ovaie o gli altri hanno lo sperma appunto non so come ha fatto vabbè è pazzesco comunque secondo me ci sono tantissime cose da prendere in considerazione io per colpa di mio padre posso dire anche grazie capito l'uomo il padre che non vorrei mai essere in vita mia eh genitori disfunzionali bene il padre ha compito solo di stare accanto alla madre perché in qualsiasi scelta qualsiasi sarà la scelta avrà problemi vero anche quello ecco vedi però sa esattamente come me no aspetta per esempio di miei genitori è quello che non vorrò mai diventare sì 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 ma alla fine tutti la pensiamo come Red però scusami stavo perché Red ha fatto il commento bello ma l'ha fatto proprio bello bello quale quello del sarà l'unico bambino ah perché tu dici non hai tanto tempo vabbè lei è giovane magari quello sarà l'unico bambino che potrai avere nella vita lì ci ripensereste a quel bambino che non avete portato avanti e lui si riferiva immagino a un bambino con problemi però raga non lo porto avanti lo stesso no 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 io con problemi no io pensavo che lui dicesse no penso che intendesse su problemi perché guardando l'ora del commento se è con problemi non lo porto avanti a prescindere anche se so che è l'unico figlio che avrei nella vita perché lì vorrebbe dire avere un atteggiamento egoistico cioè lo voglio talmente tanto che anche se ha problemi gli faccio vivere una vita di merda per me non è quello essere genitore un voto di gente fa figli per egoismo tipo mia mamma che mi partorisce a 40 anni a 40 anni non fai figli a 40 anni ti compri una casa ne compri una macchina poi dipende anche dalla motivazione che ti spinge a farlo nel senso se tu hai tutta la vita che provi a avere figli e ti esci a 40 dico poto ok no lei ha detto che l'ha fatto perché non era ovviamente davide davide ovviamente non era abbastanza ricca posso dire una cosa perché lei voleva che sua figlia avesse una bella vita è bello quello che dice però capisci che lei è quella roba lì è materialista però posso dire una roba sono crescito in una famiglia super povero sono comunque super normale tu sei ricco dentro è la differenza non mi ha creato non mi ha creato problemi problemi perché tu sei ricco dentro a livello di società me ne ha creati però ragazzi dico anzi mi ha anche aiutato forse questa cosa qui a sviluppare una personalità che ho adesso io in parte allora io in parte capisco perché lei mi fa io vivevo in un 40 metri quadri in affitto col papà e non volevamo come potevamo farti crescere in un 40 metri quadri ma sono d'accordo ma una delle motivazioni non avevamo neanche una camera per te cioè un po' la capisco capito ma una delle motivazioni ok aspetta una delle motivazioni per cui non lo farei ora è quella ma io attenzione perché io sono nato in un bilocale di 50 metri quadri senza la mia camera fino ai 21 anni ho capito però comunque capisci che è disagiante il discorso che dice lei è assolutamente disagiante però tu comunque una vita decente gliela puoi fare avere lo stesso anche se sei in un bilocale raga cioè capisco capisco che poi sia pesante perché per me è stato pesante comunque non avere i miei spazi non avere mai i soldi i tempi tutto quello che vuoi ma non è questo uno dei motivi diventato una guerrier per cui cioè sì ma no raga un figlio se gli vuoi bene cresce bene cresce bene anche cresce bene anche se non avete un euro poi certo che ci vogliono soldi per farlo e io per primo dico non lo farei perché non ho soldi allora mia madre mi ha fortunato 37 anni prima di me ha perso un bambino però vedi capito quella è un'altra cosa e io mi sento come la risoluzione del suo trauma per averlo perso e ciao pure quello c'è certo che c'è anche quello nel mondo beh comunque genitori traumatizzanti oggi ne abbiamo chat piena nella mia famiglia c'è un caso del genere grazie a tutti